ragazzi mi avete chiesto da tempo un tutorial sulla barba e quindi è certo che ve lo faccio allora ragazzi mi sono incominciato già a preparare un pannello da barba e la lametta ok nel frattempo incominciamo prima a bagnare un po con la barba e poi ci andiamo a insaponare ragazzi mi sto incominciando a insaponare a barba ecco mi ha insaporato tutto e adesso andiamo a raggiungerci con la lametta ok facciamo un po' qua cioè mi ha comando sempre nel filo e contro filo ragazzi ragazzi mi sono portato un po' avanti ma sto trovando bene dai ragazzi mi sono portato un po' avanti a questo punto la barba è finita andiamo a vedere la stesura della crema ecco qua io uso la crema nivea ecco qua ragazzi mi sono portato un po' avanti ragazzi mi sono portato un po' avanti ciao 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 ciao